L'amicizia in greca si chiama filia, è un'amicizia disinteressata, cioè non è che tu ti accoppi a qualcuno perché hai qualcosa da guadagnare, non c'è utilità, è semplicemente perché spiritualmente affine a te, è il completamento di te, è qualcosa che non potevi non incontrare nella vita. La filia nasce e non può morire, puoi avere nuovi amici, ma i veri grandi amici te li tieni sempre.